bene, me ne torno a casa me ne torno porca vacca oh 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 claus, glettac, guardate pare che qualcuno voglia venire dalla nostra parte del recinto sciocchino, non conosce le regole come faccio ad andare di là? hmm, come fai a raggiungere l'altro lato? Oh, fammi riflettere un attimo sulla domanda. Sorpresa! Non puoi! Fatti lo zaccolo, lo zaccolo, lo zaccolo, lo zaccolo, Greta! Fedi, questo è il lato dei cavalli bellissimi e quello è il lato dei tori puzzoletti. Noi cavalli bellissimi restiamo qui e voi brutte bestiacce restate là. Non ci pensare nemmeno a venire dalla parte nostra o abiteremo gli umani. Sciù, 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 vattene, puzzone. Goditi la tua giornata, maleodorante. Ja! Ferdinand, a Natale, al cinema.